A due giorni dal via libera del Consiglio regionale al disegno di legge che prevede lo stop di 18 mesi alla realizzazione di nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha pubblicato un videomessaggio sulle sue pagine social per esprimere soddisfazione sul risultato raggiunto. Perché è importante questa legge che ricordo essere una misura temporanea? E' importante perché noi non vogliamo che nel frattempo che definiamo delle regole certe si facciano degli interventi definitivi di modifica del nostro ambiente e del nostro paesaggio. Il disegno di legge numero 15, anche detto Salva Sardegna, è stato approvato dal Consiglio con 32 voti favorevoli, 21 astenuti e uno contrario del consigliere della Lega Alessandro Sorgia. Ho votato convintamente contro perché non mi soddisfa per nulla, spero che abbia ragione la Presidente Todde, ma io ho forti perplessità. Io non potevo essere complice di questa legge, di questo provvedimento che va contro i sardi, va contro il territorio nostro, contro i nostri mari e soprattutto c'è un grossissimo rischio che venga impugnata, per cui io non voglio essere complice di questo disegno di legge. E sul decreto Areidone? La novità è che la Sardegna si sta dotando di regole certe, di una sua legge regionale per le aree idone, perché la speculazione non la tollereremo e vogliamo che gli impianti industriali di rinnovabili vengano fatti dove servono e dove vogliamo noi. Areidone o non idone? Intanto c'è un problema di fondo, sono state fatte 800 roti richieste per 57 oltre i gigabatt, ossia 8 volte maggiori rispetto a quello che prevede il decreto Frattin. Sono molto preoccupato perché questa speculazione va avanti e soprattutto nel frattempo di questi 18 mesi mai ne arriveranno delle altre richieste per una devastazione del nostro territorio.